Siamo qui adesso con Luigi Randazzo, un grande ex che ha fatto le ultime tre stagioni in maglia a QN. Peccato perché c'eravate vicini per questo passato del turno, però comunque non avete fatto una brutta prestazione. Com'è stato tornare a giocare qua e cosa pensi che vi sia mancato per portare a casa la partita? Iniziamo da tornare qui, tornare qui è sempre bello perché comunque sia tre stagioni, tre stagioni importanti, quindi comunque sia fa sempre effetto tornare qui, poi era la prima volta che giocavo d'avversario dopo queste ultime tre stagioni, quindi è stata una bella emozione. Cosa ci manca? Diciamo che intanto ci manca la gente perché comunque sia ancora siamo in numero ridotto, non siamo ancora riusciti ad essere tutto l'organico, però questo non è nessuna scusante, potevamo giocare meglio, abbiamo avuto delle occasioni per fare meglio, non le abbiamo sfruttate, molte palle alte ci hanno toccato, quindi dobbiamo sicuramente lavorare meglio. In palestra ci stiamo dando, adesso speriamo che i risultati arriveranno. Comunque domenica inizia subito il campionato, quindi bisogna subito ritornare carichi, siete pronti per affrontare bene questa futura legata? Ma sì, assolutamente, noi siamo molto carichi, vogliamo fare bene, tutti abbiamo degli obiettivi importanti in testa e quindi siamo carichi, adesso cancelliamo questa gara e pensiamo subito a domenica. Bocca al lupo per l'inizio del campionato, grazie Gigi, ciao ciao, buona serata. Grazie.